Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Mantodi Aita. Il video di oggi è una scheda di allevamento di una particolare mantide africana, la taraciodula panterina o mantide pantera. Fino a pochi mesi fa questa specie era considerata un sogno dagli allevatori, ma da circa un anno è stata reintrodotta negli allevamenti europei e molti appassionati polacchi, tedeschi inglesi l'hanno riprodotta con grande successo. In Italia purtroppo rimane ancora piuttosto rara. La mantide pantera appartiene alla famiglia dei taraciodidi, come la nostra iris oratoria. Come molte mantidi di questa famiglia passa praticamente tutta la vita sui rami, dove caccia, muta e depone le oteche. È in grado di spostarsi sui rami con una velocità assurda, muovendosi anche lateralmente per sfuggire ai potenziali pericoli. La grossa testa è particolarmente espressiva grazie ai due occhioni verdi. Spesso la mantide la tiene abbassata e appiatita sul ramo, come del resto tutto il resto del corpo. Il corpo e le zampe possiedono una spettacolare colorazione giallastra, a macchie, che conferisce a questa specie il nome di mantide pantera. Maschio e femmina hanno più o meno la stessa lunghezza, di circa 6 cm, ma la femmina è notevolmente più massiccia. Altra importante differenza sono le ali, che nel maschio sono lunghe e sviluppate, ma nella femmina rimangono corte e assolutamente inadatte al volo. In quest'ultima sono viola all'esterno, ma rosso acceso all'interno. Vengono aperte solo nelle rare parate di minaccia. Altro tratto tipico della specie è il ventre rosso scuro. Questa caratteristica compare solo intorno allo stadio L5. Prima le neani diano una colorazione piuttosto uniforme. Passiamo ora all'allevamento. La teracciodula panterina decisamente non è una mantide standard e, come per molte specie della sua famiglia, non valgono le solite regole che si applicano a tutte le altre mantidi. Tuttavia, la mantide pantera è robusta e il suo allevamento non pone particolari difficoltà. Il primo consiglio che vi do è di fornire sempre, a qualunque stadio, dei rami. Questi non dovranno essere né troppo stretti né troppo larghi. Una buona regola è selezionare rami che abbiano il diametro doppio di quello dell'addome della mantide. Per questo, con la crescita degli esemplari, forniremo rami man mano più larghi. Dobbiamo disporre i rami in modo che vi sia spazio per mutare, anche se devo dire che queste mantidi sono piuttosto brave a trovare loro stesse il posto migliore per fare la muta. Io non ho avuto nessuna perdita dovuta a mute. Se non inseriremo alcun ramo, le panterine si comporteranno praticamente da mantidi terricole, cacciando e mutando da terra. Le temperature non sono un problema. Le panterine ne hanno un clima caldo, ma anche tenerle a temperatura ambiente non darà problemi, se non una crescita più lenta. Ad alte temperature, completeranno le loro nuove mute in soli 4 mesi. L'umidità invece deve essere media, non superiore al 60-70%. L'alimentazione non pone problemi, ma deve essere il più vario e diversificata possibile. Queste mantidi amano le grosse prede terricole, come blatte e grilli, ma catturano anche quelle volanti senza problemi. Non hanno neanche problemi con prede enormi, e sia i maschi che le femmine sono dei veri pozzi senza fondo. Inoltre, cacciano attivamente a tutti gli stadi, per cui sono un vero spettacolo da guardare. È inutile dire che la convivenza di più esemplari è improponibile, anche nei primi stadi, e anche in presenza di molti rami. Per le neanidi, oltre alle apprezzate drosofila, melanogasteri e idei, si può tentare anche il coleottero del fagiolo, Brucus quadrimaculatus, molto facile da allevare, ma che la maggior parte delle specie di mantidi non apprezza molto. Veniamo ora alla nota dolente, la riproduzione. L'aggressività assurda della femmina crea diversi problemi, quindi per poter tentare un approccio sicuro, la signorina dovrà mangiare fino allo sfinimento. Blatte, grilli, mosche, banana, di tutto, nutritela il più possibile. Quando sarà così sazia da rifiutare il cibo, si potrà fare il primo tentativo. Attendiamo almeno tre settimane dopo l'ultima muta. Se il maschio non prende l'iniziativa per alcune ore, si può tentare anche un approccio manuale, con cui io ho avuto successo, poggiandolo quasi direttamente sopra la femmina e soffiando o spingendo delicatamente. Molte volte volerà via spaventato, ma con un po' di pazienza alla fine ce la faremo. La copula dura poco più di un'ora, e al termine sarà visibile sull'addome della femmina una grossa spermatofora. Dopo poche ore si staccherà da sola, altrimenti la femmina la mangerà. A questo punto è quasi fatta. Dobbiamo solo attendere la lunga oteca, che arriverà dopo pochi giorni. Di colore rossiccio e appiattita sul ramo, che darà alla luce anche più di cento piccoli. La femmina non sempre farà la guardia, cosa che nelle mantidi è assolutamente rara, ma nella famiglia dei taraciodidi succede spesso. Durante la deposizione è importante non stressare la mantide, che potrebbe fuggire spaventata. Se questo succede, la mantide riprenderà a deporre nel luogo dove si ferma, spezzando l'oteca praticamente a metà. Oggi abbiamo visto una mantide decisamente particolare, che di certo non si vede tutti i giorni. Certamente, grazie al contributo di molti allevatori, la mantide pantera sta diventando sempre più comune. Per questo, se vi dovesse capitare di trovarla a buon prezzo, non ve la lasciate sfuggire. È un animale davvero affascinante, a cui vi affezionerete presto e che vi divertirete tantissimo ad allevare, ve lo garantisco. Anche questa scheda è finita. Vi invito a seguire Mantodi Aita anche su Facebook e Instagram, per non perdervi le ultime disponibilità. Addios ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti!